Ciao a tutti, io sono Giulia e vi do il benvenuto sul mio canale interamente dedicato al cinema. Come ben sapete in questo canale porto un po' le storie che stanno dietro ai miei DVD e questa storia è leggermente disastrosa a quanto particolare. Allora, il film di cui sto parlando ovviamente l'avete capito dal titolo, ossia Titanic. Questo forse è stato uno dei primi DVD che ho comprato di mia spontanea volontà. Ricordo che quando ho visto questo film per la prima volta ero in terza media e venivo un po' sfottuta perché non l'avevo ancora visto e ai tempi se non avevi ancora visto questo film facevi schifo. Come minimo le persone ti venivano a cercare sotto casa con i forconi accesi. Una mia amica, ormai ex amica, era venuta a sapere di questa mia eresia e di questa mia mancanza e quindi si è offerta di farmelo vedere a casa sua perché aveva la VHS. Cioè, stiamo ancora parlando dei tempi delle VHS. Come ho trovato il DVD ancora non lo so neanch'io. Comunque, vado a casa sua, passiamo questo pomeriggio insieme all'insegna di Titanic. O così almeno pensavo. È stata abbastanza disastrosa come prima volta perché questa ragazza innanzitutto mi aveva detto già dall'inizio che si stufava a vedere un film di tre ore. E qui ovviamente la domanda sorge spontanea. Me l'hai proposto tu? Allora perché me l'hai chiesto? E niente, sta di fatto che poi l'abbiamo cominciato. E tutta la visione è stata così. Lei che decideva quali scene fossero degne di essere viste e quali invece no. Quindi le scene che lei non reputava importanti non me le faceva vedere. Mi portava in camera sua per giocare. Non mi ricordo che cosa andava di moda su Facebook in quegli anni. Farmville, se non sbaglio comunque. Mi portava in camera sua e poi mi riportava in salotto dove stava andando il film. E poi mi riportava di nuovo in camera sua e poi mi riportava di nuovo in salotto. E abbiamo passato tutte le tre ore di film in questo modo con lei che mi diceva Ah ok, questa scena è interessante, sì guardala. No ok, questa è noiosa, andiamo di là. Dopo un po' però io mi ero rotta e visto che eravamo ormai alla fine ho detto Senti, io alla fine la voglio guardare. E lei se ne esce con Ma sì, ma tanto muoiono tutti. Lui muore perché lei non gli lascia il posto sulla porta, bla bla bla. Praticamente mi ha raccontato lei il finale. Inutile specificare che la prima volta che ho visto Titanic è come se non l'avessi visto perché non avevo capito niente. Sapevo solo che sarebbero morti tutti. Quindi alla fine di tutto non ho fatto altro che chiederle direttamente la cassetta in modo tale da guardarmela a casa. E devo dire che già ai tempi, anche solo per aver visto Titanic mi sentivo già una culturata. Cioè mi sentivo un'esperta cinematografica. E avevo solo visto Titanic. Ancora ero innocente. Non sapevo quanti film avrei dovuto in realtà ancora recuperare per non rischiare la vita a causa di un altro cinefilo. Comunque probabilmente è stato il primo film veramente importante che ho visto. Forse addirittura il primo film che mi ha avvicinata ai film considerati cult. È inutile fare una recensione su questo film. Io personalmente lo amo tantissimo. È una storia che riguarderei all'infinito. Magari quando ho tre ore di tempo in una giornata da poter dedicare un film. Certo, dopo tutti questi anni ancora non ho capito perché Kate Winslet e Leonardo DiCaprio non stanno ancora insieme, non hanno 14 bambini e sono sposati. Insomma, chi glielo dice? Ci muoviamo? Vogliamo fare una petizione per far sposare questi due? Perché non stanno ancora insieme? Comunque voglio sapere come è stata la vostra prima volta, cioè come avete scoperto questo film e come è stata la vostra prima visione di Titanic. Cioè alcuni di voi magari avranno anche avuto la possibilità di vederlo al cinema e vi prego se è stato così raccontatemi perché io voglio sapere ma al cinema quanto deve essere bestiale un film del genere. Cioè secondo me è pazzesco, a parte che qualsiasi film è pazzesco al cinema però cavolo, cioè wow, fatemi sapere perché sono troppo curiosa di sapere anche le vostre esperienze. Io vi ringrazio tantissimo se mi avete ascoltata fino a questo punto. Vi ringrazio e noi ci vediamo ad un prossimo video.